In questa puntata Ritrovato nel bosco il piccolo Nicola Tanturli Consegnato il Pegaso al sindaco di Palazzuolo sul Segno Abolizione delle mascherine all'aperto Cultura Scandicci Open City 2021 Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo Ringrazia il sindaco di Palazzuolo sul Segno E tutte le forze dell'ordine per il grande lavoro svolto Consentitemi di ringraziare tutte le forze dell'ordine Per il grande lavoro che hanno portato avanti Con impegno, dedizione Grande professionalità come fanno sempre Fatemi ringraziare il sindaco Moschetti di Palazzuolo sul Segno Una comunità che si è stretta intorno alla famiglia di Nicola C'è stato un impegno collettivo Questa è la forza della nostra regione Siamo delle comunità coese Che hanno la capacità di mettersi a disposizione degli altri Nei momenti di maggiore difficoltà È bello che tutto si sia risolto con un lieto fine Ma su questo ognuno di noi deve fare la sua parte Sempre perché non accadano situazioni di questo genere Perché tutto possa procedere in maniera sempre corretta E fare in modo che eventi come questi non accadano più Senza dubbio una buona notizia E un grande ringraziamento a Vittorio Di Giuseppe All'operatore, al giornalista precario addirittura della RAI Che è stato colui che sentendo un rumore in un cespuglio Ha dato poi il via al ritrovamento del bambino Quindi un grande grazie a quest'uomo Che sicuramente mette in evidenza Come ha detto il Presidente Gianni Una situazione particolare Perché resta da capire Come mai un bambino di appena due anni Si fosse allontanato Dalla residenza di un percorso tale Che addetta di chi poi ha fatto il ritrovamento Alle forze dell'ordine che hanno fatto il ritrovamento Hanno parlato di un percorso Che un adulto avrebbe difficoltà a compiere In oltre un'ora di cammino Quindi non stiamo parlando Del bambino che si allontana di qualche metro da casa Quindi restano delle cose da capire Su cosa è successo prima della scomparsa del bambino Per fortuna però siamo a commentare una buona notizia Consegnato il Pegaso a chi ha contribuito alla ricerca di Nicola Tanturli Ero a festeggiare l'anniversario della Guardia di Finanza E accanto quindi alle mie parole con cui mi sono rivolto alle autorità Subito il generale comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri Ci faceva vedere sul suo telefonino Con il bambino in braccio All'uomo dell'Arma Che dava il segno di quella mobilitazione che c'era Addirittura alla Guardia di Finanza C'erano anche gli encomi Per due loro rappresentanti Ma non c'erano perché erano a palazzuolo Insomma si è creata una mobilitazione Fra volontari, forze dell'ordine L'istituzione che con il sindaco Moschetti è stata presente Questo straordinario intuito del giornalista Che ha dato al cuore della Toscana la soddisfazione di vedere Nicola Sono andato a trovare Nicola sull'ora di pranzo Quando era stato portato al Maier Mi sono trovato davanti in questo lettino Questo bambino con gli occhioni forti Che guardava, che trangugiava un succo di frutta con tutta la sua energia Quanto era il desiderio evidentemente di mangiare Perché era stato portato lì dopo tutte le ore In cui ha vissuto questa avventura Una macchina dei soccorsi che è stata messa in campo In un terreno assolutamente disagevole Che è riuscita a far, vi dico anche banalmente Mangiare 500 persone In un luogo accessibile solo a lupi e cinghiali A collegarsi via satellite A mettere in campo elicotteri dell'anautica militare Capaci di fare pochi centimetri alla volta Con la termocamera Secondo me è un'organizzazione molto importante Che dimostra un paese molto capace e molto evoluto A fianco di questo c'erano 500 persone che andavano Io lo dico ripetutamente Ovviamente alle forze dell'ordine Guardi di finanza, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale Ma c'era il prete, c'era il macellaio, c'era il proprietario del pub C'era il meccanico C'era tutto a palazzuolo Non solo tutto a palazzuolo C'era Marradi, c'era Firenzuola C'era tutto l'Alto Mungelo e tutta la Toscana Abolizione delle mascherine all'aperto A partire dal 28 giugno Devo dire che mi sembra una cosa ragionevole Ringrazio il Ministro Speranza Il Ministro Speranza sarà a Firenze proprio lunedì Quindi avremo modo di discutere con lui Sarà a Firenze e sarà a Prato Perché io voglio fargli inaugurare ormai una parola eccessiva Perché hanno svolto una grande funzione Però io gli voglio far vedere quegli interventi che abbiamo fatto I due padiglioni nuovi all'ospedale di Prato E la trasformazione del CREAF per le vaccinazioni E per quello che è l'attività Covid di cura intermedia E che sono il frutto del lavoro che abbiamo fatto a ottobre-novembre Che ancora lui non aveva potuto vedere Io ritengo sia stato molto ragionevole Il fatto di arrivare a questa disposizione sulle mascherine E ritengo anche che sia molto importante Che la Toscana in questi giorni riscontri sempre Un chiaro abbattimento del numero dei contagi Ormai questa settimana probabilmente arriveremo a meno 500 contagi in una settimana E sembrano lontani i tempi Quando nella seconda ondata arrivavamo in un giorno addirittura a 2.700 contagi Quando in una settimana, ripeto, oggi superiamo di poco i 500 E siamo arrivati anche a 16.000 contagi in una settimana E insomma a quei tempi non ci dobbiamo più arrivare Quindi è importante continuare la campagna di vaccinazione Ringrazio il generale Figliolo Ieri dopo, diciamo così, le perplessità che avevo manifestato nei giorni scorsi Mi ha telefonato per dirmi che dal fondo di riserva che ha il governo a livello nazionale Ci consegna nei prossimi giorni altri 15.000 Pfizer Sì, mi pare una svolta importante Che ovviamente sta nel solco della forte riduzione dei contagi Che c'è stata nel nostro paese Nella nostra regione ma in tutto il paese Che ha un riflesso importante sui ricoveri Come vediamo ormai da settimane stanno riducendosi in maniera significativa E quindi è un elemento importante nel ritorno a una normalità Che ovviamente deve essere sempre presa con grande attenzione Perché l'anno scorso abbiamo imparato come A fronte di un calo importante Poi ci può essere, se non monitorato con attenzione Un ritorno all'epidemia nella fase finale dell'estate Quindi mi pare comunque che sia un messaggio importante Anche per tutti i cittadini, per tutti gli operatori economici Che va nella direzione di riacquisire una normalità Che dobbiamo lavorare perché non si perda neanche A partire dalle fine dell'estate prossima Di quest'estate e su questo è importante raggiungere l'obiettivo Della vaccinazione di tutti i toscani entro la fine di settembre Un obiettivo che nonostante alcune difficoltà Nella fornitura dei vaccini comunque penso sia assolutamente raggiungibile Siamo a mercoledì e quindi la mascherina ce l'abbiamo Ma sicuramente è un tentativo di riportare la popolazione Piano piano gradualmente alla normalità È importante però che questa normalità avvenga appunto per gradi In quanto quando voi sentite dire per esempio Il vaccino X è sicuro al 90% di immunizzazione L'80% il 60% È rispetto a chi non è immunizzato A parità di presidi di difesa Quindi noi dal prossimo lunedì avremo delle difese in meno Quindi dovremo mantenere sicuramente un discorso sulla distanza sociale Sull'utilizzo dei gel disinfettanti Ancora con maggiore attenzione Questo ve lo dico da medico ma credo che sia anche di buon senso Quindi sicuramente è un passo ulteriore per ritrovare quella sicurezza e quella serenità Che tutti andiamo cercando Compatibilmente poi con quelle che saranno le cose economiche Perché inevitabilmente superata la pandemia, superata l'emergenza Dovremo affrontare altre situazioni altrettanto gravi Io spero che questo primo passo verso la normalità Sia veramente una prima pietra Verso una situazione di nuova serenità per tutti Lo avevamo chiesto da tempo anche nella discussione in aula Soprattutto nel rispetto dei ragazzi, dei giovani Che vogliono riappropriarsi degli spazi liberi Del divertimento, del luogo Nell'ambito nel quale creare relazioni Bisogna stare all'aperto, si può stare all'aperto La scienza ci dimostra che in questo periodo È veramente difficile contrarre il virus E quindi è opportuno che si torni anche a una relazione normale Ancora ci saranno delle restrizioni al chiuso Ma è importante, questo è un primo segnale di normalità Una battaglia non soltanto politica Ovviamente è scientifica Nel frattempo devono continuare le vaccinazioni E deve continuare la sperimentazione per il farmaco Perché solamente con questi due obiettivi Torneremo poi a una vita normale, reale Quella che io mi auguro possa essere poi da settembre È finalmente un momento che aspettavamo da tempo Perché oltre a essere diciamo anche una liberazione Perché dato anche il caldo affoso che in questi giorni è arrivato Anche in Toscana È sicuramente un segno tangibile Di un ritorno alla normalità Per tutti quanti E quindi viene salutato sicuramente Anche psicologicamente con molto sollievo Dobbiamo però continuare a raccomandare Di mantenere le precauzioni Che abbiamo tenuto finora Per far sì che questa Diciamo questa rimozione delle mascherine E possa restare tale La disinfezione delle mani Tenere la distanza Evitare gli assembramenti Tutti quei comportamenti di buonsenso Che farà sì che quest'estate Possa essere vissuta anche con maggior sollievo Rispetto a quella dell'anno scorso E rispetto ai mesi Che abbiamo precedentemente Diciamo attraversato Cultura Scandici Open City 2021 La città diventa un grande palcoscenico Dal 24 giugno al 26 settembre 140 eventi In 30 location sparse per il territorio Tra spazi pubblici e privati Teatro, musica, cinema, danza Circo contemporaneo Poesia, talk show e incontri Questo cartellone di eventi Dà il segno vero della ripartenza Ormai giornalmente ogni comune Cerca di dare messaggi di positività E allora è bello che questo cartellone Sia stato costruito dal basso Con un vero processo partecipativo Che coinvolge mondo sociale Mondo economico Che coinvolge le tante associazioni Del territorio Che hanno dato ognuno la propria parte Per lanciare questo messaggio di speranza Un messaggio di positività Noi abbiamo da fare ancora un pezzo di strada E quindi mando un messaggio alle cittadine E ai cittadini della Toscana Avremo più libertà Dal 28 finalmente all'aperto Potremo non utilizzare più la mascherina Ma a maggiore libertà Corrisponde anche maggiore senso di responsabilità Cerchiamo di rispettare le poche regole Che ci siamo dati Il virus anche grazie ai vaccini Finalmente lo stiamo combattendo Però non abbassiamo la guardia Noi continuiamo a fare la nostra parte Per andare veloci nelle vaccinazioni Chiediamo a ciascuno di voi Di fare la propria parte Perché solo tutti insieme Possiamo sconfiggere questo virus Allora la collaborazione di Unicoppe Firenze Ormai è storica Col comune Scandici Facciamo tante cose Abbiamo anche tanti altri progetti Che poi l'assessore Vi farà conoscere piano piano Quindi ringrazio il sindaco Ringrazio l'assessore Devo dire che noi non abbiamo mai smesso Neanche durante questo lungo periodo Di pandemia Di sostenere i teatri Sostenere le attività culturali L'abbiamo sostenuto Anche se sono state chiuse Perché il mondo dello spettacolo Il mondo della cultura È uno dei mondi Che ha più sofferto Il tema della pandemia Adesso questo bellissimo programma Del comune Ci dà la possibilità Di tornare tutti un po' A vivere Io credo L'assessore alla cultura La so meglio di me Quanto sia vitale Nella vita di ognuno di noi Poter avere occasioni Non solo di stare insieme Ma di usufruire Di uno spettacolo Di un concerto Di un'attività culturale È quella che ci rende persone E quindi C'è un grande bisogno di questo Questo programma Che è così vasto E così bello Sarà un'opportunità importante Per tante persone Per tanti ragazzi Per tante famiglie Di poter uscire Stare insieme E stare insieme alla cultura Ecco questo Quindi noi sosteniamo volentieri Quest'attività Perché Posso dirlo Non ci si nutre solo di cibo Ma ci si nutre Tante altre cose Soprattutto di cultura Quindi insomma Per noi è importante Le persone sono persone E non sono consumatori Soprattutto di cultura